...d'angolo questa volta lo scambio è nostro, c'è Pirlo libero, potrebbe anche calciare, lo fa... ...d'angolo! Pirlo! ...d'angolo! E' molto bravo, ha scrittato il torno con decisione sui calci da fermo, si sono addormentati dentro l'area di rigore, parla dietro in mezzo... ...la profondità di Iaquinta cercata sullo scatto di Gouffour, Iaquinta va via, è lentissimo Iaquinta, cercato Vincenzo! Iaquinta, 2-0! Si è sfruttato molto bene la sua velocità, ma l'errore di Gouffour, che è ancora per terra, che si sta disperando, un passaggio indietro troppo corto... ...e lui non ha avuto problemi... ...da Pirlo, al volto, c'è l'albino, 1-0! Dobbiamo sfruttare, prima abbiamo sbagliato ma adesso molto attenti a non finire in fuorigioco, battuta perfettamente questa posizione da parte di Pirlo... ...perchè loro non giocano a zona, non lo sta marcando nessuno... ...palla tagliata, sale Materazzi, ma il gol! Materazzi! 1-0! 1-0! 1-0! ...lo anticipate, non lo stavano marcando nessuno, loro giocano a zona, rimangono tutti in linea... ...perchè c'è che abbiamo ripreso palla... ...e allora la possibilità di contabilità di postizioni regolare... ...Inzaghi! Inzaghi! 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 Super! Pippo Inzaghi! 2-0! 2-0! Non segnavano una vita in nazionale, Pippo Inzaghi! Non segnavano una vita, non segnavano l'11 ottobre 2003 contro l'Azerbaijan... ...inzaghi per l'Azerbaijan... ...FRANCESCO! Totti! 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 E' brutta! 5-26! 1-0! Ripeto, basta fare degli 1-2, giocare di sfonda... ...loro sono disordinati sul campo... ...con queste marcature a uomo lungo... ...e col pallone di ritorno... ...c'è tempo per il traversone che devono... ...Luca! Totti! 2-0! Si è smegliato Totti! E' arrivato Totti! Se nel momento più difficile troviamo il gol del 2-0... ...importantissimo! Si sono fatti sorprendere su questo calcio d'angolo... ...2 contro nessuno e sul... ...sono andati e Totti ha messo una pennellata dentro... ...davanti a lui grosso... ...ancora per Zambrotta... ...il pallone passa... ...Zambrotta passa in mezzo... ...Zambrotta ancora dentro... ...Luca! Toni! 3-0! Cominciato a mettere i panni dentro le valigie! Avevo anticipato di 20 secondi... ...o mio discorso di prima... ...comunque bene con Zambrotta... ...che è saltato con grande facilità... ...bravissimo! ...finta di passare! ...palla tagliata... ...messa fuori... ...c'è Pirlo! Pirlo! Pirlo ancora! Pirlo di tecco! Tiro! Go! 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 Grasso! 怎樣! Goal di Crosso! Goal di Crosso! Goal di Crosso! ...mette un minuto! Goal di Crosso! Goal di Crosso! Goal di Cannavaro! Poi ancora insiste Podoschi, Cannavaro, Cannavaro, il contropiano con Totti, dentro il pallone per Girardino, Girardino la porta nera anche vicino alla bandierina, cerca 2 contro 1, Girardino, dentro del pieno, del pieno, no, 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 no. Go! Ma ragazzi, siamo ancora vivi, siamo ancora vivi! Fabio, ma l'avevamo dimostrato subito, perché la squadra è viva, c'è, sta benissimo in campo. Sì! 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 Sì sotto l'incrocio! Sì! 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 Quattro! Quattro! Goal! Goal! E allora non ci siamo la volta insieme! Tant'è anche insieme! Quante volte siamo campioni del mondo! Campioni del mondo!